è uno dei siti storico religiosi più famosi al mondo ma quali sono i misteriosi segreti del Vaticano negli ultimi decenni è stato colpito da uno scandalo dopo l'altro la banca vaticana la pedofilia e le recentissime accuse contro papa benedetto sedicesimo e il suo braccio destro cardinal Bertone ma che cosa sta davvero succedendo qui a porte chiuse e che cosa riserverà il futuro al Vaticano in Vaticano è celata un'innumerevole quantità di segreti è possibile che l'arca dell'alleanza sia nascosta lì nessuno sa dove sia finita opere d'arte eretiche musica documenti quella è la parte noiosa i veri segreti sono le reliquie riscrivono la storia non c'è dubbio che il Vaticano malgrado professi bontà verso tutti gli uomini e la cristianità abbia anche i suoi lati oscuri nel corso dei secoli la chiesa ha accumulato ricchezze e proprietà immobiliari nessuno sa quanto ammonti il suo intero patrimonio nemmeno la chiesa la corruzione e la pedofilia hanno lasciato un segno indelebile sulla credibilità della chiesa la banca vaticana rischia di distruggere la chiesa cattolica il Vaticano è un'attività della chiesa Il Vaticano ha davvero celato segreti per secoli o sono soltanto dicerie diffuse dai suoi nemici? Il Vaticano sostiene la seconda ipotesi, ma sarà la verità? Decine di migliaia di bambini sono stati molestati ripetutamente per anni dalla Chiesa Cattolica. Il denaro Vaticano deriva da secoli di intrighi, morti misteriose e potere. Padre Gabriele Amort è finito su tutti i quotidiani del mondo quando ha dichiarato che il diavolo è presente in Vaticano. Per decenni il Vaticano è stato messo sotto accusa da quotidiani, autori, storici e critici che sostengono che sia corrotto e abitato da preti che a porte chiuse vivono una vita immorale e peccaminosa. Nonostante le sue vehementi smentite, negli anni lo Stato Pontificio è stato accusato di nascondere oro nazista, di riciclaggio di denaro mafioso, di pedofilia e persino di aver gestito in Irlanda degli istituti in cui prostitute e madri single venivano schiavizzate, le cosiddette case Magdalene. Alcuni sostengono che nel clero si nascondano adoratori di Satana, soggetti che indulgono a pratiche di magia nera e che in Vaticano siano nascoste persino le reliquie del corpo di Gesù. Per quanto sembri tutto inverosimile, gli accusatori non ricevono. Non c'è dubbio che il Vaticano abbia un'enorme quantità di segreti per il semplice motivo che è da centinaia e centinaia di anni all'apice della politica e della religione. È il centro di così tanti comportamenti umani da secoli e secoli che inevitabilmente è stato investito da una buona dose di scandali finanziari e forse di altrettanti abusi. Non c'è alcun dubbio che il Vaticano prima o poi vada ripulito. Dall'esterno, osservando il Vaticano, traspare un'immagine austera, religiosa, fantastica, ma in realtà non è altro che una casa di divertimenti. Anche prima della sua costruzione, persino nei sotterrani, si trovavano terme, bordelli. Forse anche oggi si può dire che è lo stesso. C'è da dire che si tratta della nazione più ricca di tutto il pianeta. Avrebbero potuto costruire la loro sede, la loro capitale ovunque. Ha un territorio enorme, ma hanno scelto questo posto perché è estremamente collegato ad antichi templi pagani i templi di Mitra. Non credo minimamente che l'ubicazione della città del Vaticano sia del tutto casuale. Credo che qualsiasi altra istituzione che fosse riuscita ad accumulare così tanta ricchezza e potere e così tanta storia e mitologia come nel caso del Vaticano non avrebbe mai rivelato a nessuno i suoi segreti. Uno dei grandi misteri del Vaticano riguarda il contenuto del famoso archivio segreto che non è stato rivelato neanche durante l'apertura ufficiale avvenuta lo scorso decennio. Philip Willan è un giornalista vaticanista da oltre 30 anni. Ha scritto di ben tre papi e di numerosi scandali e conosce la santa sede come le sue tasche. Philip, cosa c'è nel cosiddetto archivio segreto? L'archivio segreto, in pratica, è l'archivio personale del Papa. Dunque raccoglie tutta la documentazione generata nel corso degli affari internazionali di tutta la Chiesa. Quando questi documenti non sono più utili per un impiego immediato vengono spostati e conservati in questo gigantesco archivio che ovviamente risale a secoli fa e racconta la storia della Chiesa cattolica romana in Italia e in tutto il resto del mondo. Tanto per cominciare, la Biblioteca Vaticana, la Biblioteca Segreta, contiene ben 53 chilometri di documenti. Si dice che i più antichi risalgono all'VIII secolo, ma dovremmo crederci 53 chilometri di documenti segreti. Immaginate le verità che possono nascondere. Chiaramente tutto questo è molto emozionante per i fautori della teoria cospirazionista perché pensano un archivio segreto. Chissà cosa ci sarà, ma bisogna puntualizzare che l'aggettivo segreto deriva dalla parola latina secretum che è stata tradotta come segreto, ma che in realtà significa privato ed è questa la traduzione. Dunque significa archivio privato del Vaticano. In questo archivio la Chiesa cattolica ha qualcosa da nascondere? Quasi certamente ci sono cose che sono strettamente vincolate dal segreto e opportunamente il Vaticano ha un enorme interesse a mantenere il massimo riservo e in particolare a mantenere il massimo controllo su questi documenti. Potrebbero esserci cose imbarazzanti da non rivelare affinché nessun altro ne abbia mai accesso. Dunque potrebbero esserci molte cose di cui non abbiamo idea e naturalmente questo porta a fare molte ipotesi circa il suo contenuto. Nessuno sa realmente cosa ci sia nell'archivio segreto, ma molti speculano sul fatto che ci siano cose legate all'arca dell'alleanza o alle razzie dei templari nelle miniere del re Salomone. Molti si interrogano sulla discendenza di Gesù e si chiedono se ci sia qualcosa in merito a questo. Ovviamente sono tutti argomenti chiave su cui si fonda la Chiesa e sono tutte storie su cui la gente si interroga. E secondo me non ci sarebbe da sorprendersi se ci fosse davvero qualcosa che si discosta da quello che è stato detto e insegnato alla gente per secoli. Andrew Goff ha studiato la storia del Vaticano per molti anni. Lui crede che ci sia un problema di fondo nel cuore del cristianesimo che ha condizionato tutte le sue azioni nel corso di oltre un millennio e che forse non è altro che un mito. Ho sentito le storie più disparate, ma cosa pensi che ci sia nascosto nel famoso archivio segreto? Ci sono due tipi di segreti. Ci sono quelli convenzionali molto interessanti come la lettera di Enrico VIII che chiede l'annullamento del suo matrimonio, le lettere di Galileo e la storia dell'eresia. Ma si pensa che ci siano anche altri cimeli e reliquie, come il tesoro di Salomone o la menorà, per non parlare dell'arca dell'alleanza e del sacro graal. Ma sarebbe giusto esporli forse, o forse no, forse hanno un motivo. È probabile che ci siano cimeli e reliquie all'interno del Vaticano. Gran parte delle chiese cattoliche nel corso del cristianesimo ne ha custoditi molti, perché il Vaticano non dovrebbe avere i suoi. Magari i corpi mummificati dei grandi padri della chiesa. Si vocifera persino che il misterioso velo della Veronica sia nascosto in una delle colonne sotto il Vaticano. Quindi stai dicendo che l'archivio segreto non è tanto un magazzino bibliografico, ma che si tratta più di un deposito di oggetti nascosti. Stai dicendo questo? Si potrebbe ribattere che se ci fosse davvero qualcosa di tanto grave e se portato alla luce, sarebbe nel loro interesse distruggerlo. Ma se è privato, se è segreto, le ragioni per mantenerlo inaccessibile sono ancora più forti, credo. Pensiamoci, ogni chiesa, ogni basilica in questa città, sotto di essa, ospita templi pagani e non templi qualsiasi, ospita templi mitraici. Cosa sappiamo di Mitra? Nato il 25 dicembre, morto e resuscitato tre giorni dopo, era chiamato il Salvatore e ha compiuto miracoli nella sua vita. Aveva 12 apostoli. Suono a familiare, vero? e questo è molto prima di Cristo. Ma in qualche modo lo stanno celando perché era un po' oscuro. Si sacrificano tori e c'era un elemento sessuale. Persino il cristianesimo ha ripulito e rispolverato il mito. E c'è chi ha detto che era vero. E trovo grave che abbiano mentito sulla storia perché è allegorico, non è reale. Una delle cose più sorprendenti di Roma è che la città che vediamo oggi, comprese alcune aree del Vaticano, sorge sulla più antica città pagana da ben oltre 2000 anni. Alcuni sostengono che i vecchi luoghi di culto giochino ancora oggi un ruolo segreto molto importante nei vertici della gerarchia della chiesa. Forse le popolazioni dell'epoca volevano mostrare ai pagani che ora che avevano il potere potevano costruire sulle rovine del loro culto. È questa la tesi tradizionalista. Ma forse c'è anche un elemento di riassorbimento del potere. Molte persone ritengono, ad esempio, che le chiese siano state costruite su linee energetiche e che in queste linee si era chiuso il potere nella terra. Credevamo nella stregoneria, credevamo nella grande madre. Tornare a quel concetto non è una cosa negativa. hanno ripreso tutte quelle idee e tutto il lato pagano e lo hanno cristianizzato. Ci hanno sparso sopra l'acqua benedetta e eliminato tutte le reliquie religiose che stavano dentro e che immagino siano ancora nascoste chissà dove nei sotterranei del Vaticano. La chiesa non è un'organizzazione santa e benevola. In realtà è satanica. Si celebrano messe nere e rituali. La città è stata costruita proprio sopra dei tempi pagani, i cui dei sono ancora venerati. Iside è diventata Maria Maddalena, Osiride è diventato Gesù e così via. La realtà è che è un posto molto, molto oscuro. Questa è la Basilica di San Clemente a Roma ed oggi è gestita da un ordine di monaci irlandesi domenicani. È stata fondata molti secoli fa e ospita una delle maggiori entrate per i sotterranei che conducono agli antichi resti pre-cristiani della città. Lo storico vaticanista e guida locale Rob Allen è un esperto della Roma sotterranea e si è offerto di mostrarmi i resti del tempio di 2000 anni fa che oggi si trovano sotto il livello del terreno. La cosa straordinaria è che ora stiamo camminando nel primo secolo dopo Cristo. Stiamo camminando in un edificio di mattoni che secoli dopo la sua costruzione è stato trasformato in un cosiddetto mitreo per il culto del dio pagano Mitra. In questo punto qui c'è questa targa perché quando hanno fatto gli scavi nel XIX secolo si è presentato un problema. Qui è indicato il livello dell'acqua perché un tempo esisteva un torrente naturale e se restiamo in silenzio sentite? La pompa funziona ancora continua a pompare acqua. Adesso entreremo nel luogo dove venivano eseguite le pratiche religiose il mitreo. Il mitreismo era un culto pagano non era un culto di stato ma un culto misterioso. Questo non significa che la gente non ne fosse a conoscenza ma non sapeva di questi rituali e che il culto fosse una sorta di società segreta. era un culto solo per uomini per soldati e per amministratori. Qui è rappresentato il culmine della vita di Mitra. Eccolo. Questo è il dio Mitra col suo cappello frigio. Era identificato come il dio del sole e qui sta uccidendo un toro che in pratica rappresenta la luna. Ora si vede tutto bianco ma immaginatelo affrescato. sembra una luna crescente. Si vede bene la coda e ritrae il momento dell'uccisione. Ci sono delle creature che lo accompagnano perché qui è rappresentata l'allegoria della rinascita. Quello che c'è sotto è difficile da decifrare ma vediamo un cane un serpente e qui dove si vede il coltello e il sangue che fuoriesce loro bevono il sangue. C'è uno scorpione che sta pungendo il toro sui testicoli allo scopo di prenderne la sua forza vitale. A volte è ritratto con delle foglie di mais che fuoriescono dalla coda. Da decenni da centinaia di anni si vocifera di preti di cardinali di persone rispettabili dell'esistenza insomma di una piccola setta all'interno della chiesa che compie sacrifici e rituali molto molto oscuri. Quindi c'è da chiedersi è un caso che abbiano situato la loro capitale e il loro paese proprio sopra questi templi? Io credo di no. Il Vaticano come molti altri siti cristiani è stato costruito su un preesistente luogo di culto. È un modo per dire ora noi controlliamo la vostra religione. I luoghi pagani ora sono luoghi cristiani e questo è quello che succede a Roma e al Vaticano. Sì, ci sono resti di antiche religioni che erano probabilmente un po' più oscure di quanto il cristianesimo rappresenta. È certamente vero che hanno ripreso e sviluppato resti e congiunzioni architettoniche esistenti ma arrivare a dire che i capi della chiesa cattolica in Vaticano siano adoratori di Satana è una cosa priva di fondamento. La chiesa cattolica o per meglio dire il cristianesimo in generale ha dirottato il paganesimo il quale era prima di allora la vera religione se vogliamo. Quindi hanno depredato i siti tutti i loro ideali l'ideologia del paganesimo e li hanno riadattati a modo loro. C'è un motivo per cui ci sono siti religiosi molto importanti siti cristiani costruiti sopra templi mitraici e il motivo è che questi luoghi hanno una sorta di potere e sono stati riutilizzati da questa nuova religione. Se analizziamo gran parte delle società monoteiste sono tutte più o meno simili come se si ispirassero a quello che è accaduto prima ed è per questo che c'è un legame tra il paganesimo e il cristianesimo infatti vediamo sempre la rappresentazione delle stesse cose tanto che alcuni nomi sono simili. L'autore Rob Howells fa studi e ricerche sul Vaticano e i suoi misteri da oltre un decennio ed è convinto che al suo interno siano custoditi oggetti documenti e altri segreti. Allora Rob quali sono questi segreti del Vaticano? Da quando esiste il cristianesimo ha collezionato manoscritti reliquie e oggetti di campagne o crociate sia a scopo di ricerca e a supporto delle loro idee sia per evitare la fuga di notizie perché dovevano controllare le informazioni relative a problemi fisici e ai dogmi per scongiurare la diffusione pubblica di punti di vista alternativi. Di che generi di cose stai parlando esattamente? Per quanto riguarda la documentazione ci sono 52 chilometri di libri e manoscritti documenti che risalgono agli inizi del primo secolo fino a quelli che oggi chiamiamo i Vangeli Apocrifi. E perché questo danneggerebbe la Chiesa Cattolica? Perché di fatto potrebbero emergere altri punti di vista. C'erano moltissimi libri diversi che inizialmente dovevano essere inclusi nella Bibbia ma solo dopo una lunga scrematura politica sono stati scelti i libri definitivi. Alcuni parlano della cosiddetta Fonte Q. Gli accademici parlano di un documento che avrebbe ispirato i principali Vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni perché i Vangeli principali sono stati scritti molto tempo dopo Cristo. Dunque se la tesi della Fonte Q fosse vera danneggerebbe tutto il resto. Ha un archivio segreto. Molti dicono che segreto in realtà significhi privato. Tecnicamente è così ma siamo onesti significa davvero segreto. A una persona qualunque non è consentito accedervi. Non può e non si può fotocopiare nulla. Ho sentito da fonti molto autorevoli che ci sarebbe addirittura un Vaticano dentro il Vaticano. Ci sarebbero enormi colonne e pilastri. Colonne di dimensioni gigantesche e lì ci sarebbero i segreti dei segreti come ad esempio il velo della Veronica e tante altre reliquie. opere d'arte eretiche musica documenti quella è la parte noiosa. Il vero tesoro i veri segreti sono le reliquie i cimeli cose che riscriverebbero la storia come ad esempio il fatto che la chiesa si fonda su origini pagane non su fondamenta sacre e questo è il segreto più grande. tradizionalmente gli archivi hanno la funzione di erudire dimostrare alla gente diverse fonti ma in questo caso sembra tutto diverso. Sì un archivio dovrebbe essere un registro pubblico accessibile a tutti ma poiché c'è materiale potenzialmente controverso non è permesso accedervi. Si può accedere all'archivio segreto solo se si sa esattamente cosa si sta cercando non si può consultare infatti l'altro problema riguarda la mancata catalogazione di decine di migliaia di documenti proprio perché non si vedono molti ricercatori lì ma solo alcuni bibliotecari dunque potrebbero esserci documenti di grande importanza di cui nessuno sa niente. E ci sono solo documenti o ci sono anche reliquie e altri oggetti? Sì ci sono anche reliquie sappiamo che dalla terra santa sono state rinvenute molte reliquie alcune molto singolari e il prepuzio di Cristo è uno di questi secondo alcune voci vi è conservato persino il cordone umbilicale che sia vero o meno è opinabile ma molti di questi oggetti sono stati recuperati e si pensa restituiti al Vaticano nel corso della storia. Molti parlano di teorie cospirazioniste e di quanto siano inverosimili ma in realtà se osserviamo l'arco di Tito a Roma vediamo che ritrae delle persone che saccheggiano posti come Gerusalemme per trovare reliquie. Ora chi può dire con certezza che i cimeli non siano gli stessi che queste teorie sostengono essere nascosti là sotto che siano calici o sudari o altro? Ovviamente c'è grande diffidenza verso i misfatti di molti precedenti papi e alte figure del Vaticano perciò molte persone pensano chissà quante cose diaboliche nascondono oppure fantasticano su teorie sul Santo Graal o sull'arca dell'Alleanza per me sono tutte fantasie se il Vaticano possedesse l'arca dell'Alleanza o chissà che altro ovviamente lo renderebbe visibile per me sono solo teorie fantasiose sul contenuto dell'archivio segreto e il reputo delle sciocchezze. in pochi oggi conoscono l'oscura storia del Vaticano il papa più controverso dell'era moderna è Pio XII eletto nel 1939 viene soprannominato il papa di Hitler da coloro che lo accusano di aver mantenuto il silenzio sullo sterminio dell'Olocausto ancora prima papa Leone XIII alla fine del XIX secolo distrugge le già flevili speranze di riconciliazione tra la chiesa d'Inghilterra e la chiesa di Roma dichiarando nulle tutte le ordinazioni anglicane dichiarazione valida ancora oggi. uno dei momenti più bassi della morale papale risale al 954 quando il diciottenne Giovanni XII figlio di un precedente papa sale al potere e trasforma il laterano il palazzo papale prima del Vaticano in un bordello verrà poi ucciso un decennio dopo da un uomo furioso per averlo trovato a letto con la propria moglie. oltre mille anni dopo continuano a circolare voci e accuse a danno della santa sede. Nel 2003 scoppia il caso delle cosiddette case Magdalene dove giovani madri single e prostitute sarebbero state ridotte in schiavitù in istituti gestiti da suore cattoliche in Irlanda. Alle vittime è stata risarcita una somma di 43 milioni di dollari. Nel 2009 viene rivelato che l'Arcidiocesi di Boston avrebbe coperto casi di molestie sessuali perpetrate da 70 preti a danno di migliaia di bambini. Il numero sale poi ad oltre 3000 preti cattolici sparsi in tutto il mondo che sono stati accusati di presunti abusi sistematici su decine di migliaia di bambini. La Chiesa Cattolica sarà costretta a pagare milioni di dollari di risarcimento. La Chiesa Cattolica è stata accusata di molestie a danno di bambini per oltre 34 anni. Due terzi dei vescovi hanno protetto i preti accusati di molestie. I legali delle vittime della Chiesa Cattolica chiederanno di avere accesso al materiale che potrebbe chiarire un'eventuale politica ufficiale del silenzio. Tu credi che la Chiesa Cattolica sapesse dello scandalo della pedofilia e che abbia mantenuto volontariamente il massimo silenzio. Sì, assolutamente. L'hanno coperto per anni. Ci sono casi di preti accusati e dichiarati colpevoli internamente al Vaticano dai loro pari che poi sono stati trasferiti in altre destinazioni prima dello scandalo. Lo hanno coperto per anni e questo ha causato un danno perché una volta scoperto non è più l'atto isolato di un singolo prete ma viene chiamata in causa la moralità e la corruzione di un'intera organizzazione. Non c'è dubbio che nel corso della storia ci siano state delle mele marce in Vaticano. Non c'è dubbio che ci siano preti cattolici ad ogni livello del Vaticano che hanno fatto cose disdicevoli. Lo abbiamo visto in Irlanda con gli innumerevoli casi di abusi su minori da parte di preti cattolici ma non considero il Vaticano in sé per sé come una specie di male assoluto che è responsabile di tutte le malefatte della società nel corso dei secoli. Lo vedo più come un'enorme istituzione venale corrotta avida fuori misura che però non è del tutto responsabile. Uno dei più singolari servizi offerti dal Vaticano è la liberazione da spiriti demoniaci o per meglio dire l'esorcismo. Per secoli i preti hanno combattuto il male e liberato i seguaci da forze malvagie armati solo di un crocifisso una Bibbia e dell'acqua santa. Ebbene sì succede ancora oggi. il capo esorcista del Vaticano degli ultimi trent'anni padre Gabriele Amort morto recentemente sosteneva di aver eseguito nel corso della sua vita oltre centottantamila esorcismi. Odiava apertamente i romanzi di Harry Potter e persino lo yoga. Diceva praticare yoga è satanico conduce al male proprio come leggere Harry Potter. È interessante che il Vaticano che crede nell'esistenza di entità demoniache abbia più esorcisti ora che in passato ad ogni diocesi è assegnato un esorcista a cui rivolgersi nella regione di appartenenza. Il rito dell'esorcismo comprende un'enorme quantità di documenti e di litanie anche in latino e si invocano santi allo scopo di scacciare il demonio. Ci sono oltre duecento preti esorcisti e il loro compito è scacciare i demoni che posseggono il loro grigie che porta via il loro corpo e l'anima. Tutto risale al Nuovo Testamento se non prima dove si legge che Gesù scaccia i demoni. Si tratta di un aspetto chiave della tradizione. Sembra straordinario che ancora oggi nel pieno del ventunesimo secolo il Vaticano abbia ancora così tanti preti che praticano esorcismi. Questo dimostra che c'è ancora una credenza radicata negli spiriti e nei demoni che associamo ad un'idea antica e che infatti è presente nella Bibbia nel Vecchio Testamento. a Madrid in Spagna vive Padre Fortea uno degli esorcisti più attivi della Chiesa Cattolica. Lui dice che è tutto molto reale. Dopo molti anni di studi approfonditi sui fenomeni legati al demonio io posso dire con totale certezza che credo davvero nell'esistenza di spiriti maligni e le caratteristiche di questi spiriti corrispondono esattamente a quelle dei demoni che vengono descritti nella Bibbia. posso dire per mia personale esperienza che vedo gente ogni giorno. Dal lunedì alla domenica ricevo persone provenienti da tutta la Spagna ed ogni anno vengono scoperti due nuovi casi di cosiddetta perfetta possessione demoniaca. l'unica vera cosa di cui abbiamo bisogno per un esorcismo è la fede. Un esorcismo può essere fatto con un rituale oppure no. Si può usare l'acqua benedetta una croce qualsiasi cosa un rituale. Comunque gli oggetti benedetti sono molto utili per noi perché vediamo come i demoni reagiscono ad essi in quanto rappresentano qualcosa che è legata a Dio ma quello che realmente serve è la fede. La cosa interessante è che la Chiesa non nega l'esistenza di forze demoniache e il fatto che pratichi l'esorcismo. Non a caso il numero dei preti esorcisti aumenta anno dopo anno. Non è un semplice rituale arbitrario è un documento in latino di 84 pagine che dice si fa così. Il fatto che la Chiesa riconosca la presenza del male rafforza le voci che essa stessa è il male rendendole molto più interessanti. L'esorcismo è uno dei pochi mezzi con il quale noi sacerdoti abbiamo l'opportunità di sentire i demoni parlare attraverso una persona. Il più delle volte parlano con una voce molto brutta a volte con molta abilità e grande conoscenza della teologia. Alcune volte riusciamo a capire che una persona è posseduta dal demonio perché sappiamo che quella persona conosceva molto poco sia la Bibbia che la teologia. Diverse volte sono rimasto sorpreso che sapessero perfettamente qualcosa che era quasi impossibile. Il demonio non esiste. In pratica è la Chiesa ad aver inventato il diavolo. poiché esisteva il bene dovevano inventare il male. Poiché esistevano i più grandi dovevano inventare anche i più piccoli. Così i demoni sono diventati piccoli diavoli. Delle persone possedute di chiunque sentisse le voci nella testa ad esempio i medium e le persone sensitive si diceva è il diavolo che gli sussurra all'orecchio. Dunque servivano gli esorcisti per liberarle. Via demoni malvagi! Dopo lo scandalo delle banche oggi presso la Santa Sede sono stati eseguiti tre arresti. Cinque sacerdoti sono stati condannati per appropriazione indebita a Savona. Lo Stato del Vaticano ha quasi carta bianca con le sue finanze. Gli scandali finanziari della Chiesa si protraggono da decenni. Gli scandali finanziari travolgono il Vaticano sin dalla morte di Roberto Calvi avvenuta nel 1982. Calvi era a capo della banca vaticana quando fu trovato impiccato a Londra sotto il ponte dei Fratineri. John Dickey è uno storico e autore giallista che da anni fa ricerche sul mondo segreto della banca vaticana. È autore di molti libri tra cui Cosa Nostra Onorate Società e Darkest Italy. Secondo Dickey negli ultimi anni la Chiesa si sarebbe appropriata indebitamente di grosse somme di denaro. Da molto tempo la Chiesa intrattiene rapporti con la mafia. Quello che la maggior parte della gente sa o che sospetta si rifà alla storia del banchiere di Dio negli anni Ottanta. Storia finita tragicamente con la morte di Roberto Calvi trovato impiccato sotto il ponte dei Fratineri a Londra di cui ancora oggi non sappiamo esattamente il motivo sebbene sia probabile avesse riciclato denaro mafioso attraverso varie banche tra cui la Banca Vaticana. Le finanze della Chiesa cattolica sono un assoluto labirinto. Qui non stiamo parlando di una cassa di denaro contante controllato e gestito dal Papa. Si parla di parrocchie di ocesi poi c'è la Santa Sede che rappresenta la missione papale nel mondo c'è la città del Vaticano che è un piccolo stato e ci sono tutte le Chiese dei paesi più disparati ci sono una marea di ordini religiosi e nel corso dei secoli la Chiesa cattolica ha accumulato ricchezze proprietà immobiliari chiese nessuno sa quanto valga tutto questo nessuno sa quanto ammonti il suo intero patrimonio nemmeno la Chiesa per secoli veniva eletto un Papa che spendeva senza freni poi subentrava il successore e iniziava a costruire altre opere sfarzose edifici chiese e questo succede ancora oggi l'attuale Papa è molto umile sembra contrario alle spese sfrenate e vive in modo umile il problema del Vaticano ragion per cui io credo abbiano scelto l'attuale Papa è che è diventato completamente incongruente con i valori cristiani valori base come l'umiltà l'amore la povertà e quello che Gesù ha predicato lui non aveva denaro dava tutto ai poveri osserviamo invece il Vaticano i suoi immobili le sue opere d'arte le statue i monumenti tutto questo sfarzo e ricchezza che cosa se ne fanno Papa Francesco è indubbiamente stato eletto per garantire trasparenza finanziaria e sono sicuro che lui l'abbia fatto a livello centrale soprattutto in seno alla banca vaticana chiamata IOR che per molto tempo ha operato come banca offshore addirittura negli anni 90 somme di denaro mafioso proveniente dal traffico di droga veniva riciclato dalla banca vaticana una cosa scandalosa è stato fatto molto per garantire maggiore trasparenza all'interno della banca vaticana ma Papa Francesco ha davanti a sé un grossissimo lavoro da compiere e forse ci vorranno decenni e più di un papato non so quanti per arrivare ai meandri più tortuosi e intricati che conducono agli enormi fiumi di denaro all'interno della chiesa in generale ogni nuovo Papa compreso quello attuale sostiene che riformerà la chiesa sì giusto questa è l'istituzione più ricca mai esistita loro non rispondono a nessuno non c'è alcuna trasparenza nelle loro azioni dunque mi piace che ci stia provando buona fortuna ancora oggi il Vaticano deve affrontare numerose accuse su svariati fronti come d'altronde ha sempre fatto nel corso della sua millenaria esistenza in ognuno di questi casi nel corso del tempo il Vaticano è stato costretto a scusarsi e a pagare salati risarcimento nonostante ciò continua ad essere implicato in sempre nuove controversie tuttavia resta ancora poco chiaro ciò che non è stato scoperto o rivelato nelle varie aperture dell'archivio segreto molti continuano a credere che nei blindatissimi sotterranei i Vaticani sia nascosto materiale eretico tra cui i Vangeli apocrifi testi estratti da altre religioni cimeli simbolo come l'arca dell'alleanza e persino reliquie dello stesso Gesù Cristo il paradosso nella storia del Vaticano e di tutta la Chiesa Cattolica è che l'istituzione sia responsabile di uno degli episodi più vergognosi e sanguinari della storia e mi riferisco all'inquisizione sebbene il Vaticano la Chiesa Cattolica sia stata molto abile nell'inquisire gli oppositori non lo è stata altrettanto nell'inquisire se stessa non c'è mai stata un'inquisizione un'inquisizione interna con lo stesso rigore e la stessa sete di sangue come invece sarebbe servito ma credo che questo a cui stiamo assistendo oggi e che si sta lentamente diffondendo nel ventunesimo secolo vada tenuto più in considerazione oggi le persone sono più ciniche e più diffidenti anche tra i fedeli c'è chi osserva il Vaticano e si chiede è così che voglio che la Chiesa come istituzione diffonda e professi la mia fede? sono tutte domande sensate da porsi ci sono ancora molti aspetti del Vaticano alquanto arcaici se ci pensiamo però questo si riferisce a una nozione base della religione in generale ossia non si cambia ci è stato detto che è nato il Messia ed è così non si discute e non si cambia perché se si cambiasse una cosa poi tutto verrebbe messo in dubbio tutto quello su cui si fonda la Chiesa l'intera storia di Gesù è è inventata dai dieci comandamenti ai sette peccati capitali al purgatorio all'inferno e la dannazione Belzebù Baphometto Bal il diavolo i demoni e l'anticristo sono tutte storie inventate per tenerci sotto controllo con la paura è stato colpito da uno scandalo dopo l'altro negli ultimi 30 anni riciclaggio di denaro furti violenze abusi su minori non importa quante accuse gli vengano rivolte il Vaticano sembra risorgere sempre più forte di prima nonostante molti critici ne annuncino la caduta in molte zone del mondo la Chiesa Cattolica in realtà sta crescendo l'attuale pontefice Francesco sta ripulendo la Chiesa se ci riuscirà davvero è ancora troppo presto per dirlo ma una cosa è certa il prossimo capitolo della storia del Vaticano sarà molto interessante alla prossima la Chiesa Cattolica la Chiesa Cattolica la Chiesa Cattolica grazie a tutti